Allora, cari amici, per questa giornata della poesia, per questa serata conclusiva a cui io non posso prendere parte, purtroppo mi sarebbe piaciuto essere con voi, ma non ce la faccio, mi è stato chiesto di leggervi qualcosa. Io però non vorrei leggervi della poesia, perché è già abbastanza impegnativo farlo in presenza dei corpi vivi, farlo con un telefonino in mano, peraltro stanno anche picchiando gli operai al piano di sopra, diventerebbe davvero impossibile. Però voglio leggervi qualcosa, credo di ugualmente bello e spero, che ha detto un grandissimo poeta del Novecento che si chiama Giorgio Caproni, nel corso di una conferenza che tenne in un piccolo teatro romano diversi anni fa e che fortunatamente è stata raccolta in un prezioso libricino in cui Caproni appunto parla del suo mestiere di poeta. Caproni dice Il poeta è un minatore, è poeta colui che riesce a calarsi più a fondo in quelle che il grande Maciado definiva le segrete gallerie dell'anima e lì attingere quei nodi di luce che sotto gli strati superficiali diversissimi fra individuo e individuo sono comuni a tutti, anche se pochi ne hanno coscienza. L'esercizio della poesia rimane puro narcisismo, finché il poeta si ferma ai singoli fatti esterni della propria vita, ma ogni narcisismo cessa nel momento in cui il poeta riesce a chiudersi e inabissarsi talmente in se stesso è da scoprirvi, ripeto, e portare a giorno quei nodi di luce che non sono solo dell'io, ma di tutta la tribù. Quei nodi di luce che tutti i membri della tribù possiedono, ma che non tutti i membri della tribù sanno di possedere o riescono a individuare. Mi pare che sia stato Proust, potrei sbagliarmi a dirlo, a dire che quando uno legge un poeta in fondo non fa che leggere se stesso, perché quel poeta ha raggiunto in se stesso una verità che vale per tutti e che già, come la bella addormentata nel bosco, sonnecchiava in tutti in attesa di essere svegliata. E si arriva così a un altro paradosso, che quanto più il poeta si immerge nel proprio io, tanto più egli allontana da sé ogni facile accusa di solipsismo, appunto perché in quella profondissima zona del suo io è il noi, un io che dalla singolarità passa immediatamente alla pluralità. Ecco, la funzione sociale, civile della poesia sta o dovrebbe stare appunto in questo. Buona serata. Grazie.